Fuga da Stability AI, la società perde figure chiave a problemi di liquidità. Questo è un post, un articolo su D-Day di Sergio Donato, il nostro ormai mitologico Sergio Donato, che scrive su D-Day, ottimo magazine online italiano. Dice su Stability AI, naturalmente Stability AI sono quelli di Stable Diffusion, Stable tutto, qualunque Stable AI naturalmente. Se ne è andato il cofondatore Emad Mostak, che ha rilasciato il ruolo di CEO. Stability AI spende tanto e ha ricavi non in linea con i costi. Importante. Allora, Stability AI, la società dietro il noto modello AI Stable Diffusion, naturalmente, sta affrontando l'esodo di figure chiave del suo personale, a cui recentemente ci sono aggiunte le dimissioni dell'amministratore delegato e cofondatore Emad Mostak. Mostak, che è... dov'è? Non c'è una foto a Emad Mostak, vabbè. Metteteci una foto, cari di D-Day, che ha abbandonato anche il consiglio di amministrazione. Una fuga. Cos'è Stability AI? Quando si parla di AI generativa legata alle immagini, sono tre i nomi da citare. Mid Journey, naturalmente, dell'omonima startup fondata da David Holtz nel 2022. Poi c'è Dali, che è quella di Open AI, usato anche in Copilot. E poi c'è Stable Diffusion, appunto, di Stability AI. Di questi tre, Stable Diffusion è l'unico modello open source con licenza permissiva che ha anche una pagina su WeTab. Ed è stato il modello che ha consentito una rapida diffusione degli AI generativa per le immagini, proprio grazie alla sua caratteristica open, e ha la possibilità di essere installato anche localmente. C'è anche qua, se volete approfondire, un link su come installare Stable Diffusion per creare immagini gratis, insomma, dovunque dovete spendere di energia elettrica, sul proprio PC. Vi serve un PC, insomma, un pochino recente, però si può fare. Proseguo. Sebbene Stable Diffusion e le sue iterazioni sia la tecnologia più nota, Stability AI ha dato vita anche a un LLM, un Large Language Model, quindi un modello di generazione di testi, che è Stable LM, poi c'è anche Stable Audio per la creazione di musica e effetti sonori, molto carino, tra l'altro. Poi c'è Stable Video Diffusion per i filmati e Stable Zero 1, 2, 3 per gli oggetti 3D. Ah, c'è anche un approfondimento su Stable Audio, se volete, sempre su D-Day. C'è un problema di costi, 8 milioni di dollari al mese, alla faccia. La scorsa settimana, quando era ancora amministratore delegato, quindi CEO di Stability AI, Ahmad Mostakwe aveva annunciato la partenza di alcune figure chiavi della società, tra cui 3 dei 5 autori che hanno sviluppato il nucleo della ricerca sul modello Stable Diffusion. Non benissimo. L'anno scorso ad andarsene erano stati invece 3 VP, vicepresidenti di prodotto, di ingegneria e di ricerca e sviluppo, e 3 responsabili di settore, LLM, ricerca e audio, oltre ad altri dirigenti. Non benissimo. Nel 2022 Stability AI aveva raccolto abbastanza fondi da riuscire a ottenere una valutazione da 1 miliardo di dollari, ma recentemente ha iniziato ad affrontare una crisi di liquidità, con spese per i salari e soprattutto costi per la potenza di calcolo molto superiori alle entrate. Secondo Bloomberg, Stability spende 8 milioni di dollari al mese per costi di elaborazione e stipendi. Quindi deve trovare soldi. Stability AI sta affrontando anche le spese della causa legale intentata da Getty Images e da un gruppo di artisti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i quali sostengono che la società abbia grabbato, abbia usato opere d'arte e foto di repertorio per addestrare i modelli di AI, naturalmente. A febbraio ha ceduto ClipDrop, la piattaforma per la creazione e l'editing delle immagini alla startup Jasper, dopo solo un anno della sua acquisizione. Naturalmente dovevano fare un po' cassa. A metà marzo inoltre Migione ha accusato alcuni dipendenti di Stability AI di aver sottratto un grosso numero di prompt e di immagini al punto di aver causato un'interruzione del servizio di Migione durata 24 ore. Migione ha quindi bandito dal servizio tutti i dipendenti di Stability AI a tempo indeterminato, ma la società di Emad Mostak ha risposto che l'attività non è stata intenzionale. In questo scenario instabile, proprio la figura Emad Mostak non è stata di grande aiuto. è stato criticato per la gestione finanziaria della società e coinvolto anche in una causa intentata da un altro cofondatore, Cyrus Hodds, per accuse legate alla valutazione dell'azienda. Nelle dichiarazioni successive alle dimissioni, Mostak ha espresso l'intenzione di concentrarsi sulla soluzione del problema della concentrazione di potere nell'IA, sottolineando l'importanza della decentralizzazione nel settore. E qui c'è il tweet del signor Emad, dice, non ha più notifiche, va bene, non ha più notifiche, dice le sue share, quindi le sue azioni, gli consentono la maggioranza del voto in Stability AI e hanno la maggioranza del board, del controllo del board. La concentrazione di potere nell'AI è male, è un male per tutti noi. e quindi ha deciso di fare step down, quindi di ritirarsi, per appunto fixare questo problema in Stability e altrove. Ci dirà qualcosa di più. Lui fa un passo indietro perché chiede, crede che concentrare troppo potere su se stesso, cioè su una singola persona, non vada bene e quindi fa step down. Comunque ha affermato che Stability AI è in mani capace. Il Chief Operating Officer Shan Shan Wong e il CTO Christian Laforte che hanno preso il ruolo di co-CEO a Interim, evidenziando il suo sostegno agli obiettivi aziendali nonostante le dimissioni. Vabbè, insomma, non è molto stabile questa Stability AI. Che battute! Che battute!